Sono breve, sono tutte esperienze bellissime, abbiamo finito. No scherzo, no c'è davvero poco da aggiungere nel senso che io ringrazio il PD di Modena per l'invito, ringrazio Giovanni per l'invito. Io provo a portare un punto di vista esterno molto rapido perché davvero c'è poco da aggiungere, nel senso che l'esperienza del PD bolognese raccontata da Marco Lubardo è complessa, articolata, io la conoscevo, colpa mia. E' molto interessante, molto ricca, le cose proposte dagli ottimi, il percorso individuato dagli ottimi Giovanni e Andrea è molto interessante. E allora, con uno sguardo esterno, quello che mi viene da commentare è che questa esigenza di formazione, la comprensione della necessità di formare è, e non solo per quanto si tratti di un gruppo dirigente fondamentale, non solo devolta agli amministratori è molto interessante, è un segnale di salute da parte di un partito liquido, anche se qua e a Bologna è naturalmente molto meno liquido, molto più solido che in altri luoghi. Io credo che la solidità sia una qualità. Un signore con la barba che ha formato generazioni di rivoluzionari socialisti diceva che tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. Il signore ha avuto un ruolo importante, è stato dimenticato, adesso è stato in parte recuperato, per esempio, da un economista che si chiama Thomas Piketty, che è l'oggetto della discussione più forte dal punto di vista dei fondamenti dell'economia politica di questi mesi. Si può leggere questa frase marxiana in tanti modi, una delle frasi più esoteriche di Marx, che aveva una componente, come sapete, diciamo abbastanza vicina ad un certo esoterismo messianico ebraico, come ha messo in luce Gershon Schole. Ma tutto ciò che è solito si risolve nell'aria, qui può essere letto in termini di contaminazione, per l'appunto di diffusione di pensiero. Quindi davvero c'è poco da aggiungere, da commentare, se no un elemento che mi permetto di inserire che è questo, insieme alle buone pratiche, alla ricostruzione del tessuto comunitario, della formazione politica in cui militate, che è importante e che è fondamentale, soprattutto in una fase di dissoluzione, di liderismo molto spinto. Guardate bene, non si può vivere e fare politica nell'epoca postmoderna senza leader. E questa è una lezione che la sinistra a lungo non ha capito e che oggi ha capito un po' a torto collo, a tal punto da identificarsi in una maniera, a mio giudizio, un po' troppo pedissequa e per questo è un po' rischiosa, con un unico leader, mentre servono vari leader. Però al tempo stesso non ci può essere un partito come agenzia di socializzazione, agenzia di azione politica, agenzia cognitiva, come direbbe Barca, e si è molto ironizzato su questo, abbiamo fatto un dibattito alla festa dell'unità, cioè festareggio di partezzata alla festa dell'unità dieci giorni fa a riguardo, se non c'è un gruppo di persone, il più largo possibile, fatto di dirigenti, di militanti, ma anche capace di interagire con la società. E allora l'idea del percorso aperto è un'idea davvero molto positiva, perché uno dei rischi e una delle ragioni per cui le persone e gli individui si sono allontanati e della politica è avvertire quel che rimane dai partiti in termini di casamate, piazze forti chiuse, luoghi che tendevano a tenere fuori dalle porte e dalle mura le persone, invece la riapertura dei percorsi, l'idea dell'essere itineranti rispetto a luoghi di socializzazione antichi è molto positiva. Ecco, quello che mi permetterei di indicare, che mi permetterei di offrire alla discussione collettiva è sempre di più questo partito è un partito di amministratori, è lodevole, è fondamentale, è un partito di technicalities, è un partito di approcci pragmatici, è un partito anche che ha fatto un grande sforzo, un grande ragionamento sulla comunicazione, in alcuni casi felice, in alcuni casi è un giudizio invece infelice, ma questa è una discussione che si può aprire e che ci porterebbe lontano, è un partito che sta, che ha intercettato benissimo lo spirito dei tempi attraverso il suo libero attuale, però essere un partito di sinistra o di centro-sinistra, un partito progressista, significa anche essere in alcuni momenti laterali o in controtendenza rispetto allo spirito dei tempi, per lo spirito dei tempi innanzitutto il neoliberismo, con il quale non si può fare conti naturalmente, che a mio giudizio ha anche alcune espressioni straordinarie, sfogoranti, estremamente sexy e affascinanti, ma che è un grande produttore di disuguaglianze, un formidabile produttore di sperequazione e di contrazione dei diritti. Un partito di centro-sinistra, progressista di sinistra, e anche la terminologia è molto importante, è un partito invece di riappropriazione e rilancio dei diritti. Andrea parlava prima di digital divide, di analfabetismo di ritorno, questo della capacità di conoscere e padroneggiare le skills, e quelli che sono effettivamente gli strumenti di produzione, e i mezzi di produzione, oggi Marco Lombardo parlava dei makers e di questi artigiani cognitivi dei fab lab, che sono un pezzo piccolo, ma un pezzo importante, che in America è naturalmente molto più largo, di ritorno alla manifattura, e su cui naturalmente l'Italia, paese che ha perso nel giro di 10 anni il 40% della capacità manifatturiera, cioè un disastro e un avatello, innanzitutto dal punto di vista dei posti, di lavoro, dell'occupazione, e anche dell'erario delle istituzioni pubbliche, in termini di minori e utroiti, è un problema su cui bisogna ragionare e lavorare. Allora, per stare nello spirito dei tempi, in maniera adeguata e anche in controttendenza, laddove necessario, occorre quella vecchia cosa che il signore, sempre con la barba, avrebbe chiamato la teoria o la dottrina. Il Partito Democratico è un partito di buone prassi, soprattutto da verso i suoi amministratori, e agli amministratori bisogna rivolgere un applauso, non per fare dei salamelecchi o per costruire piageria, ma perché in situazioni complicatissime, dal terremoto alla riduzione progressiva del capacity spending, fino a questa follia tutta italiana del patto di stabilità all'interno di un'altra follia che è il vincolo del 3%, che è insostenibile, che la Germania per prima e la Francia hanno ampiamente forzato e fatto saltare, allora in tutto questo forse c'è bisogno di elaborare dottrine, di elaborare pensiero. Naturalmente non spetta unicamente al PD di Modena o al PD di Bologna, ma forse per costruire un pensiero che soprattutto se quello che un tempo si chiamava il centro, cioè Roma, è in tutt'altre faccende affaccendato, anche a colpi di tweet, sarebbe bene che in qualche modo venisse rimesso in circolo e per rimetterlo in circolo bisogna costruire un dialogo, un patto, questa è un'espressione che Marco Lombardo utilizzava frequentemente, con soggetti che stanno altrove, con soggetti che non necessariamente sono attratti dalla formula del Partito Democratico, ma che magari nel Partito Democratico un unico partito liquido ma solido presente in campo trovano un interlocutore e un soggetto con quale confrontarsi perché di fatto si tratta dell'unica macchina partitica presente in questo paese in questo momento. E penso che sia bene che continui a resistere e a intercettare consenso il più a lungo possibile. E per fare questo bisogna davvero produrre contaminazione, bisogna davvero rivolgersi a pensieri lontani. Io credo che il rivolgendo nuovamente una lode sincera e anche con un po' di ammirazione al lavoro che il PD di Modena ha avviato e condurrà nei prossimi mesi e al percorso che il PD di Bologna ha portato all'approdo recentemente, davvero rivolgendo lode e ammirazione, penso che se potete, dovete aggiungere qualcosa, forse questo sta in un tentativo di produrre un pensiero, una dimensione teorica, una griglia teoretica senza la quale la politica può essere grande amministrazione ma come ci insegna la storia dei partiti italiani, in questo recupero davvero alcune delle cose molto giuste che dicevate prima, cioè in un'altra epoca la capacità di governare una nazione che diventa ancora più importante in un'epoca di interrelazioni, di interazioni, di globalizzazione, occorre un sistema complesso, occorre una teoria, occorre un pensiero alto in grado di interconnettere che naturalmente deve andare oltre le naturalmente buonissime e utili pratiche e che deve fare da guida. Se il partito da cui viene questi luoghi, cioè il partito comunista, in mezzo a una caterva di difetti ha avuto un ruolo importante, è stato quello per far sì che dall'ultimo paesino e villaggio urale della Sicilia fino alla Emilia Arretrata, fino a Torino, grande centro di produzione culturale, tutti quelli che aderivano e sottoscrivevano la testa di quel partito si sentivano parti di un grande processo di emancipazione nazionale e naturalmente di un grande processo di emancipazione universale e internazionale. Allora occorre, soprattutto nell'epoca globale, che di fronte alla disparità tra quello che un tempo si sarebbe chiamato il capitale, che è diventata una cosa sofisticatissima che a Marx sarebbe piaciuta tantissimo, cioè pura transazione e trasumanza di simboli, di moneti, di carnenses, di valute, attraverso mezzi tecnologici, occorre che alla impressionante e straordinaria anche a Mirai Evole, Marx l'avrebbe davvero ammirata, capacità del capitale finanziario di spostarsi, riducendo i paesi e gli stati nazioni in povertà, molto spesso ci fosse un pensiero alternativo, non violentamente conflittuale, ma capace di costruire l'alternità di sinistra, di centro-sinistra progressista altrettanto globale. Grazie. Grazie.